L'editore di Italia 2 TV, Nicola Maccapane, ha ricevuto ieri sera a Palazzo Ferraioli a Roma il premio Comunicare l'Europa. Si tratta di un prestigioso riconoscimento internazionale che da oltre dieci anni mette a confronto le istituzioni nazionali, internazionali ed europee con l'arte, la cultura e con il sociale, ma anche con tanti mondi paralleli come quello della cooperazione internazionale o degli accademici. Il tema scelto quest'anno per la cerimonia, che è stato anche un momento di dibattito culturale su problematiche e tematiche di grande attualità, è stata la coesione sociale, che è uno dei temi cardine su cui l'Europa sta ora dibattendo. Ospiti straordinari dell'evento sono stati Umberto Gianmaria, presidente della Fondazione Tao, e Sara Iannone, presidente dell'Associazione Alba del Terzo Millemio. Nicola Maccapane è stato quindi premiato a Roma in una cerimonia sentita e emozionante. Grazie a tutti.